leopolda siciliana faraone a crocetta stai tranquillo veronica panarello colta da malori in carcere è ricoverata domani ritorna aste in piazza alla calza a palermo buonasera nuovo appuntamento con l'informazione di media news oggi è lunedì 2 marzo oltre 5.000 persone hanno partecipato alla leopolda siciliana organizzata da davide fareone il sottosegretario ha rivolto messaggio a crocetta stai tranquillo si è conclusa ieri a palermo sicilia 2.0 la due giorni della leopolda siciliana tra ieri e oggi ha detto il sottosegretario davide faraone organizzatore dell'evento abbiamo registrato una partecipazione di oltre 5.000 persone gente arrivata qui da tutta la sicilia al di là delle polemiche su chi c'era e chi no faraone ha lanciato messaggio al governatore il crocetta terra nasce dalla volontà e dall'impegno di chi ci ha messo la faccia renzi del rio faraone se è nato il crocetta terra è perché ci crediamo crocetta stai tranquillo qui nessuno ha voglia di far crescere progetti alternativi a questo governo stiamo costruendo una nuova classe dirigente non un nuovo candidato presidente alla regione abbiamo costruito un modello che deve servire al pd parlare di allargamento è una questione legata ai gruppi dirigenti siamo andati oltre il pd è andato oltre tra la gente e i cittadini il sottosegretario ha tagliato corto anche sulle polemiche la fuoriuscita di 500 civatiani dal pd non c'erano neanche al congresso quando si è votato fatemeli vedere nuovi tagli alla regione l'assessore all'economia razionalizza gli uffici e revoca i contratti delle sedi in affitto nuovi tagli alla regione che annuncia la volontà di lasciare alcune delle sedi in affitto un'operazione prevista tra le norme della finanziaria per la quale sono già partiti i primi avvisi ai proprietari e con cui si andrebbe incontro a un risparmio di circa 3 milioni di euro un piano di riorganizzazione di allineamento alle norme nazionali lo definisce l'assessore all'economia alessandro baccei per il quale si sta lavorando ad alcuni interventi per ridurre i fitti passivi la legge prevede infatti una serie di requisiti da rispettare come ad esempio un numero massimo di metri quadrati stiamo rivedendo le occupazioni e razionalizzando gli spazi a detto baccei in questo modo si conterrà la spesa per arrivare a risparmiare circa 3 milioni di euro intanto quella che appena iniziata sarebbe la settimana decisiva per la finanziaria la legge infatti è a buon punto assicurato dal palco della leopolda siciliana l'assessore romano che è stato difeso dal sottosegretario davide faraone la classe dirigente del passato metteva in bilancio entrate finte per garantirsi le uscite a detto faraone spiegando che a causa di questo sistema la regione oggi deve fare i conti con un buco da 3 miliardi e mezzo di euro per questo baccei al lavoro per risanare la situazione deve essere supportato altrimenti c'è il rischio che rimanga isolato d'altronde baccei è proprio quel tecnico arrivato da roma per mettere ordine nei conti e su quel buco l'assessore sta lavorando per trovare soluzioni ma non sarà macelleria sociale non ci saranno tagli a sicura ma solo interventi di allineamento alla normativa nazionale tra questi ci sono ad esempio gli interventi sui prepensionamenti e sulla riorganizzazione dei dipartimenti intendiamo liberare dove abbiamo degli esuberi ha detto l'assessore per cercare di compensare e riutilizzare le persone nell'ambito della regione cambia il capogruppo all'ars del movimento 5 stella guidare i 14 deputati a palazzo ed ormani a partire da oggi salvatore siragusa che succede a valentina zafarana in virtù della rotazione semestrale stabilita dai parlamentari classe 1967 siragusa è nata a torino dove ha vissuto fino all'età di 19 anni viva bagheria e perito in elettronica industriale ed è tecnico informatico e segretario della commissione affari istituzionali dagli avvocati nomuos un atto monitorio al ministero dell'interno alle forze dell'ordine finora non rispettata la sentenza del taro gli avvocati del coordinamento regionale dei comitati nomuos hanno notificato un atto monitorio al ministero dell'interno alla questura di caltanissetta al commissariato di pubblica sicurezza di niscemi e dalla stazione dei carabinieri di niscemi allegando la copia della sentenza del tar palermo dello scorso 13 febbraio l'iniziativa si è resa necessaria spiegano i legali dopo che lo scorso 26 febbraio un ingente spiegamento di forze dell'ordine polizia e carabinieri ha scortato dentro la base di contrada ulmo a niscemi un convoglio formato da militari ed operai poteva apparire una normale squadra addetta alla manutenzione degli impianti presenti nella base ma dopo il loro ingresso è stata notata la movimentazione delle parabole del muos in base alla sentenza del taro l'installazione del muos è avvenuto in assenza di valide autorizzazioni l'annullamento infatti è efficace sin dall'origine di lavori sono da considerare integralmente abusivi a prescindere da ogni altra conseguenza quindi anche il loro utilizzo in qualsiasi forma è da considerare illecito nei prossimi giorni saranno prese alte iniziative anche in considerazione dell'assoluto immobilismo degli enti che sarebbero preposti a far rispettare il giudicato del tar veronica panarello colta da malore in carcere è stata ricoverata se non vedrò mio figlio ripete morirò malore in carcere per veronica panarello la mamma del piccolo loris stivale detenuta nel carcere agrigento è stata trasportata in ospedale dove medici hanno disposto il ricovero precauzionale la donna è svenuta nella sua cela dopo essere uscita dal bagno a soccurla sono stati gli agenti del penitenziario che dopo averla condotta in infermieria l'hanno condotta in ospedale dove è stata sottoposta a due tacche e ad altri esami che non hanno rilevato patologie rilevanti pare che la donna cadendo abbia sbattuto la testa la notizia del malore è giunta alla procura di ragusa e al legale di veronica francesco villardita che dopo l'autorizzazione da parte della direzione del carcere ha ottenuto un colloquio straordinario con la sua assistita proprio nella struttura ospedaliera mi ha detto che continua ad alimentarsi ha dichiarato l'avvocato ma adesso è sotto cura con delle flebbo certo ha evidenti sintomi di cattiva assimilazione visto che pesa circa 40 chili sembra che la donna continua a ripetere voglio vedere mio figlio piccolo se non lo vedo morirò e lotto per mostrare la mia innocenza e scoprire il colpevole dell'omicidio di loris adesso si è in attesa che i medici decidano se continuare gli accertamenti e le cure ospedaliere o disporre le dimissioni in ritorno in carcere veronica panarello è detenuta nel carcere di agrigento con l'accusa di aver ucciso a santa croce camerina il 29 novembre 2014 il figlio loris di otto anni strangolandolo con delle fascette di plastica la donna in seguito avrebbe gettato il corpo del piccolo in un canalone nei pressi di contrada mulino vecchio sul omicidio sono ancora in corso le indagini condotte dalla polizia di stato dalla squadra mobile e dai carabinieri di ragusa l'arresto è stato convalidato dal gip di ragusa e dal tribunale del riesame di catania i carabinieri indagano su un'intimidazione subita e danno dello chef natale giunta proprio in questi giorni la corte d'appello ha confermato le condanne in appello per gli estortori denunciati dallo chef la scorsa notte colpi di mazza contro la porta della cucina è scattato l'allarma al ristorante castello a mare secondo lo chef è l'ultimo di una serie di intimidazioni alcune settimane fa i bagni del locale erano stati danneggiati a colpi di bottiglia un pacco postale spedito dal venezuela contenente t-shirt intrise di cocaina pura per complessivi 300 grammi di droga è stato intercettato alla guardia di finanza di catania all'aeroporto di fontana rossa il plico è stato scoperto da unità cinofile antidroghe da militare del nucleo di polizia tributaria militari delle fiamme gialle travestiti da corrieri hanno effettuato la consegna al destinatario del pacco un 28enne di mister bianco che è stato arrestato il valore di mercato della cocaina dopo il processo di estrazione delle dalle magliette con appositi reagenti chimici è stato quantificato in oltre 50 mila euro cambiamo argomento nel 2014 il tasso di disoccupazione è salito in italia al 12,7 per cento dalla 12,1 del 2013 lo rende noto l'istat specificando che il dato annuale il massimo mai registrato dal 1977 il tasso di disoccupazione giovanile invece è sceso a gennaio 2015 al 41,2 per cento dal 41,4 di dicembre 2014 i dettagli nel servizio leggero calo nella disoccupazione giovanile in italia secondo gli ultimi dati rilevati dall'istat il tasso tra i giovani tra i 15 e 24 anni è sceso al 41,2 per cento rispetto al 41,4 di dicembre 2014 quello appena concluso però è stato l'anno che ha registrato il record di disoccupazione in italia il 2014 si è chiuso infatti con un tasso di disoccupazione globale che è salito dal 12,1 per cento del 2013 al 12,7 per cento un dato annuale ritenuto il massimo mai registrato dal 1977 nel nostro paese dopo la crescita di dicembre dunque a gennaio 2015 gli occupati sono 22 milioni 320 mila sostanzialmente invariati rispetto a dicembre ma in aumento dello 0,6 per cento su base annua il tasso di occupazione pari al 55,8 per cento aumenta così di 0,3 punti rispetto ai 12 mesi precedenti il numero di disoccupati pari a 3 milioni 221 mila diminuisce dello 0,6 per cento rispetto al mese precedente mentre aumento dello 0,2 per cento su base annua dopo il calo di dicembre a gennaio il tasso di disoccupazione diminuisce ancora di 0,1 punti percentuali tornando sullo stesso livello di 12 mesi prima quanto al tasso di inattività il numero di individui tra i 15 e i 64 anni che non lavorano e non cercano un'occupazione registra un calo dello 0,1 per cento rispetto al mese precedente e dell'1,3 per cento rispetto all'anno prima mentre il tasso di disoccupazione dei 14 24 anni cioè la quota di giovani disoccupati sul totale di quelli attivi è pari al 41,2 per cento nella media del 2014 la disoccupazione continua quindi a crescere ed è un fenomeno che interessa tutto il territorio nazionale senza distinzioni tra uomini e donne l'incremento secondo l'istat è dovuto in quasi 7 casi su 10 al numero di persone che alla ricerca di prima occupazione 262 prestazioni per l'open day della prevenzione domani ritorna Asp in piazza alla calza a Palermo un'altra giornata di massiccio a flusso di donne negli ambulatori dell'Asp di Palermo per l'open day della prevenzione sabato scorso sono state 161 le mammografie eseguite mentre 102 pap test effettuati nell'ambito rispettivamente dello screening del tumore al seno e del carcinoma del collo dell'utero l'iniziativa realizzata in collaborazione con la Lilt e l'associazione serena a Palermo sarà ripetuta il primo e l'ultimo sabato di ogni mese domani invece tornerà Asp in piazza Camper Gazebo dell'azienda sanitaria provinciale saranno a piazza calza a Palermo dalle 9 alle 17 i cittadini avranno la possibilità di usufruire di una lunga serie di prestazioni l'accesso a tutti i servizi sarà gratuito, diretto, senza necessità di ricetta o prenotazione nel villaggio della salute saranno impegnati 55 operatori dell'Asp tra medici, veterinari, infermieri e personale tecnico ed amministrativo per ogni cittadino che si sottoporrà allo screening ha spiegato il direttore generale dell'Asp di Palermo Antonino Candela sarà redatto una cartella clinica in caso di test positivo l'utente sarà avviato ad un percorso programmato e pianificato di approfondimento diagnostico e terapeutico del tutto gratuito nel rispetto di rigorosi indicatori di qualità previste a livello nazionale ed internazionale a Palermo è stato presentato il libro scritto a quattro mani dal tenore Simone Alaim e da Salvatore Sutera dal titolo Anche un basso può volare alto le interviste il libro ci racconta un po' la vita e la storia musicale di questo grande artista siciliano di Villa Abate che è stato ed è tuttora un grandissimo cantante che riempie di orgoglio noi siciliani e per tutto il mondo il suo nome continua a risuonare con la sua voce possente il maestro Simone Alaimo ha in repertorio circa 90 opere tra opere liriche, oratori e chiaramente il suo repertorio privilegiato è quello di Rossini quello del bel canto ma chiaramente ha fatto tantissime incursioni anche nel repertorio drammatico Nabucco per esempio o altre opere di Verdi chiaramente il maestro Alaimo ha come predilezione il repertorio dicevo belcantistico perché è proprio quello con il quale è nato a partire dalla Semiramide e poi con tutti i titoli di Rossini Simone Alaimo lo abbiamo visto in tantissime produzioni qui a Palermo e io personalmente ho avuto l'onore di conoscerlo anche come artista sulle tavole del palcoscenico dove ho potuto constatare e sperimentare la sua presenza galvanizzante perché di quegli artisti rari oramai ai giorni nostri che sanno coinvolgere tutti quanti all'interno del palcoscenico dalle maestranze agli altri artisti riuscendo a far dare sempre il meglio di sé quando ero ragazzino il parroco del mio paese mi disse tu sei un poliedrico il parroco del mio paese era padre Francesco Baiamonte poliedrico significa che probabilmente per lui sapevo fare più cose giocavo al pallone, cantavo, suonavo, facevo teatro eccetera eccetera forse tale sono rimasto con aggiunta del fatto che ho scritto qualcosa c'è un libro di poesie, c'è un libro di sunti bellissime di favole e questo è un altro tassello che metto nel mio curriculum artistico ed iscrittore al via oggi la fase conclusiva del festival delle città educative che si terrà ai cantieri culturali della Zisa a Palermo fino al 7 marzo subito dopo l'inaugurazione oggi pomeriggio allo spazio Tre Navate verranno aperti gli spazi espositivi di oltre 80 realtà sociali fra istituzioni pubbliche e private scuole e organizzazioni del terzo settore e volontariato nello spazio perriera si terrà il laboratorio per ragazzi città in tasca la polizia di stato, i carabinieri, la guardia di finanza la polizia municipale, i vigili del fuoco e il dipartimento regionale di protezione civile saranno presenti nello spazio sicurezza con mezzi, unità cinofile e robot anti-sabotaggio mentre Enel, RAP, Codifas e l'ordine degli agronomi animeranno lo spazio ambiente con laboratori filmati e momenti informativi ed è tutto, grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni